Devo dire che non ci siamo proprio. Ciao ragazzi, ben ritrati da Andrelink e benvenuti in questo nuovo video reaction. Abbiamo finalmente un trailer per New Pokémon Snap. In arrivo il 30 aprile, quindi abbiamo una data. Vi ricordo che dalle prime immagini che abbiamo avuto diverso tempo fa, la grafica prometteva bene, non che la grafica sia l'aspetto principale nei giochi, ma in questo è molto importante visto che devi fare delle foto. Quindi direi che conta molto. Ok. Ho visto una cosa che non mi piace per... Oh mio Dio. Ho visto una cosa bruttissima. Già due veramente. Ok. Speriamo sia solo un caso. Ok, il mare qui è abbastanza carino, il riflesso del sole. Oh mio Dio, che ho visto! Quello è carino. Che roba era quel modello? Che roba era quel modello? Però... Ok. Nintendo... Allora... Ah no, no, no. Allora. Allora, voglio un attimino rivedere un paio di cose perché ragazzi... Allora, iniziamo da qui già. Lasciamo perdere il fondale che non è messo a fuoco. Questo fungo. Vabbè, è un fungo. Ci può stare che non sia proprio il massimo della vita. Ok. Qui è abbastanza carino il tutto. Però ecco, ecco, preciso. Cosa diavolo è? Queste due pallette qui al lato, cosa sono? Queste due pallette qui, cosa sono? Dei poliwag, degli spiel? Cioè, ragazzi, sono risoluzioni pessime. Forse l'hanno presa... Hanno fatto uno screen e l'hanno preso male? Allora, qui, tutto sommato, la grafica... Beh, è un po' poligonale, ma... Ci sta abbastanza. Ok. Allora, seguendo il mouse, vediamo che lo sfondo sembra reale. Sembra che abbiano fatto una foto, l'abbiano un po' downscalata per forza, e l'abbiano scontornata malissimo. Però, però, andiamo avanti che c'è di peggio. Ragazzi, non sta andando affatto bene, è già le primi secondi. Allora, veniamo teletrasportati sulla spiaggia, forse è il primo livello... Allora, forse è il primo posto nel quale possiamo andare. Bellissimo il riflesso del sole, delle nuvole, della luce, e il fondale marino che si vedono i coralli, il riflesso dell'acqua. Qui i drift blim che volano, ok, tutto molto carino. Ma... Qui ancora ci siamo? Su Pokémon Spada e Scudo, si è tanto parlato degli alberi che hanno le texture di quelli di Zelda del Nintendo 64. No. Qui le texture... Vi sembrano texture a voi quelle? Gli alberi sono più belli in Pokémon Snap? Commenti sotto il video ufficiale, eh. La grafica è migliore. Io per il momento vedo modelli di Pokémon pessimi in bassa risoluzione, oltre che scontornati male. E il... Questa... Qui cos'è questo? Cos'è sta texture? Strecciata malissimo. Oh mio Dio, l'ombra! L'ombra tutta quanta seghettata. La vegetazione è rigogliosa, non gli posso dire nulla. Bansuit che vola con le foglie è perfetto. Qui, vabbè, i Sakura è un po'... Torto, ma... Gli Heopard. È sbagliato. Partendo dal colore. Troppo vivido. Questo sembra giallo... Questo è giallo Simpson, non è un giallo normale. La coda seghettata. La texture della roccia strecciata tantissimo. Non capisco perché abbiano preso i triangoli e li abbiano strecciati. Voi dovete sapere che quando si fa un modello, ci sono i triangoli. Si usano i triangoli per tracciare il modello. E qui è stato usato? Male! Poi l'ombra! L'ombra che pulsa! Qui va bene. Oddio, il Podon che fa uscire la sabbia dai suoi orifizi. Il fatto che Pokémon espella la sabbia ci sta anche nel Pokédex, se non sbaglio. E viene anche raffigurato in quella maniera come un artwork su Pokémon Diamante e Perla, se non sbaglio. O Platino. Ci sta. Texture un po'... Oddio, qui si vede benissimo dove hanno tagliato per mettere... Allora, la prima reina qui che si rilassa sulla roccia facendo la sirena. Allora, qui. Il modello di Pichu all'attacco delle orecchie è fatto malissimo. Cos'è questo... Cos'è questo modello di Kruki? Perché ha un braccio storto? Perché... Come è girato? Ragazzi, ma... Cioè... Oh mio Dio, la roccia! La roccia! Qui, guarda! Ma ragazzi, ma avete letto i commenti sotto questo video? Sotto il video di Pokémon Snap? Che roba che c'è scritta? È il gioco... Il gioco con la grafica migliore di spade e scudo. Ma dove? Ma la... Il terreno! È strecci... È un PNG strecciato! Ma dai! Questo è bello. Questo non gli posso dire nulla. Pinsir e Heracross che combattono è bellissimo. Quello glielo devo dire. Ma cazzo, ragazzi! Tutto il resto, no! Come si fa a dire è meglio di Pokémon Spade e Scudo la grafica quando siamo agli stessi livelli? Queste? Queste che state vedendo adesso sono cinematic! Non è la grafica in gioco! Questa è una cinematic! Questa! È una cinematic! Non si fa col motore del gioco! Se noi qui vediamo le foto, a parte Gruki che è sempre stranissimo... Queste qui penso che... Spero... Spero vivamente che siano fatte col motore di gioco e non... Con un motore grafico differente. C'è sempre gente che non capisce che non è Game Freak a fare tutti i giochi di Pokémon, ma... Ragazzi, io quello che dovevo dire ve l'ho detto. È imbarazzante. Un gioco dove deve contare solo la grafica in questa maniera è un po'... No, è un po'... È imbarazzante. Tu devi solo fare la grafica fatta bene. Voglio andare a vedere quanto costa ora online. 60 euro. Descrizione Preparati all'arrivo di New Pokémon Snap Un'avventura tutta nuova per Nintendo Switch ispirata al classico Pokémon Snap Uscito originariamente per Nintendo 64 In New Pokémon Snap esplorerà i deserti, giungle e tanti altri luoghi per fotografare i Pokémon e scoprire per la prima volta come si comportano in natura. Devo dire che sono molto deluso. Non mi aspettavo fosse tremendo questo trailer. Spero per il Pokémon Day che ci siano altre informazioni, che ci sia un Direct bello corposo e che ci siano almeno altre modalità di gioco che mi spingono ad acquistare Pokémon Snap il giorno d'uscita. Ora senza essere ipocriti io Pokémon Snap lo compro ma se non mi danno altre feature oltre a fare le fotografie in giro con una grafica di dubbia qualità dove qui la grafica conta tutto visto che devi solo fare delle foto per il momento solo foto io lo compro da un rivenditore privato almeno alla meno della metà del prezzo e può essere pure che non lo provo per niente lo compro giusto per collezione perché ho tutti gli altri giochi ma ragazzi 60 euro e non abbiamo nulla tu mi stai vendendo una grafica sì magari un po' superiore rispetto a quella di spada e scudo ma i modelli dei Pokémon devi fotografare i Pokémon non la natura quindi ok mi fai la natura rigogliosa con i giochi di luce e ombre quasi decenti ma mi fai Pokémon con le ombre dei Pokémon che pulsano i Pokémon poligonali e in bassa risoluzione io non ti do niente io non li spendo 60 euro il giorno d'uscita se poi durante il Pokémon Day abbiamo un trailer magari anche di un minuto sì perché no però dove mi dici c'è questa modalità c'è quest'altra modalità ci sono 3-4 modalità diverse e sono valide allora ti dico ok forse li vale ma vediamo per il momento ragazzi per me Pokémon Snap è un no no il giorno d'uscita e forse forse potrebbe essere la prima volta che salto un gioco Pokémon potrebbe essere la prima volta non lo compro per niente comunque ragazzi per questo video è tutto queste erano le mie impressioni su Pokémon Snap gridare al miracolo nei commenti dicendo che la grafica è fantastica per me è esagerato comunque io vi ringrazio per aver seguito il video ci vediamo nel prossimo bye bye ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.